La storia in cucina di Massimo Montanari Nella tradizione alimentare europea ci sono dei valori discordanti che ci sono stati trasmessi discordanti al punto di assumere qualche volta l'aspetto di una sorta di schizofrenia culturale se da un lato la etica alimentare aristocratica propone l'ideale del grande mangiatore come personaggio di prestigio che proprio attraverso l'abbondanza del cibo e soprattutto dell'abbondanza di cibo carnio mostra la propria eccellenza sociale una parte importante della tradizione religiosa cioè la cultura monastica cristiana elabora modelli di comportamento basati in maniera esattamente speculare sulla moderazione dell'appetito e sulla privazione alimentare intesa come strumento di penitenza e di perfezionamento spirituale l'etica alimentare monastica così come si elabora a cominciare dalla fine dell'antichità e dagli inizi del medioevo in poi si sviluppa attorno alcuni concetti fondamentali che sono quello dell'astinenza rinunciare a certi cibi e del digiuno praticare l'astensione totale dal cibo per qualche volta al giorno o per alcuni giorni dell'anno e sono pratiche che hanno come obiettivo una battaglia contro il corpo contro il piacere del corpo inteso come vincolo all'ascesi e alla crescita spirituale sono tipi di comportamento che in alcuni casi assumono forme estreme ci sono eremiti che vengono presentati dalle biografie come campioni dell'astinenza che gareggiano fra di loro per rinunciare al cibo nella maniera più estrema possibile esempi certamente non quotidiani ma comunque proposti come modelli da imitare modelli più moderati più tranquilli ma anch'essi improntati all'idea della moderazione sono quelli invece delle regole monastiche come la regola benedettina ad esempio che fra le altre cose dice il vino non sarebbe adatto ai monaci ma poiché questo non glielo possiamo chiedere accontentiamoci almeno di dirgli bevetene poco e moderatamente in ogni caso l'astinenza dalla carne rimane per la cultura monastica un obiettivo di fondo più o meno radicale più o meno assoluto tutte le regole monastiche medievali hanno questo principio base rinunciare alla carne cioè il cibo per eccellenza ritenuto migliore dalla cultura alimentare del tempo e più prestigioso rappresenta il primo segno della penitenza della mortificazione e quindi del perfezionamento sembra quasi un paradosso che i monasteri medievali promotori di una cultura diffidente nei confronti del cibo come fonte di piacere diffidente al punto che troviamo in certi testi gli abati che distruggono le vivande che i monaci stanno preparando e le mescolano tutti insieme per annullarne le qualità organolettiche il gusto le sensazioni piacevoli al tempo stesso però questi monasteri sono stati luoghi importanti di elaborazione della cultura gastronomica sembra un paradosso ed è un paradosso che nasce dal fatto che la necessità di far fronte a obblighi alimentari molto rigorosi in particolare la rinuncia alla carne e di nutrire un gran numero di persone non solo i monaci in senso stretto ma anche tutti gli altri quindi contadini artigiani ospiti che in qualche modo collaboravano alla vita del monastero ecco tutto questo imponeva di assoggettare a una grande regolamentazione di inventare un controllo severo di sfruttamento economico della terra delle culture degli animali della conservazione dei prodotti e proprio la molteplicità dei vincoli a cui la dieta monastica era sottoposta favorisce paradossalmente la cultura gastronomica complessa sapiente elaborata che normalmente si riconosce a questi luoghi ecco l'obbligo di astenersi dalla carne produce un'attenzione particolare alla produzione alla preparazione di cibi alternativi ad esempio i centri monastici sono luoghi in cui si sviluppano tecniche perfezionate di allevamento dei pesci vivai peschieri artificiali tecniche nuove una grande attenzione viene data alla coltivazione degli orti all'uso delle piante da cui vengono non solo verdure per la tavola ma anche le erbe officinali che servono per la medicina per la farmaceutica altro cibo alternativo a cui si dà grande attenzione è il formaggio e anche qui c'è da dire che tanti formaggi di quelli ancora in uso ai giorni nostri in italia in francia in altri paesi europei hanno nomi che più o meno direttamente si legano a insediamenti monastici questo è molto significativo ed è frutto di una storia appunto contraddittoria controversa dove la stessa negazione di alcuni piaceri alimentari ha prodotto l'attenzione ad altri piaceri la prima domanda che un cuoco europeo del passato deve porsi quando si mette davanti ai fornelli e che giorno è oggi esiste infatti un calendario molto preciso dettato non tanto dalla stagionalità quanto dalla liturgia che impone di scegliere alcuni prodotti o altri prodotti in particolare gli obblighi liturgici ripropongono alcune scelte di fondo che la cultura monastica aveva fatto fin dagli inizi del medioevo scelte di fondo soprattutto nella negazione della carne e dei cibi animali in alcuni giorni dedicati alla penitenza questi giorni nel caso dei monaci potevano corrispondere all'intera vita della persona quando si trattava di una rinuncia totale ma questa rinuncia si chiedeva anche alla società dei cristiani nel suo insieme vi erano nel corso dell'anno periodi come la quaresima ma erano tanti i periodi di quaresima come le principali vigiglie come brevi periodi di preparazione alle feste come alcuni giorni infrasettimanali il mercoledì e il venerdì sono regole in parte rimaste fino al ventesimo secolo ecco durante tutti questi giorni durante tutti questi periodi tutti dovevano rinunciare ai cibi animali questo serviva come elemento di penitenza come elemento di rinuncia e anche come elemento di identità rispetto a una società cristiana che si auto riconosceva in certe pratiche alimentari questo aveva importanti ripercussioni sull'organizzazione economica basta dire che nel periodo quaresimale che era l'astinenza più lunga dell'anno le macellerie chiudevano letteralmente non vendevano più non si poteva più acquistare carne sul mercato urbano e i macellai si convertivano si riciclavano diremmo noi in rivenditori di pesce ci sono città medievali in cui le stesse arti le stesse corporazioni le stesse associazioni di mestiere vendono carne e pesce vendono olio e lardo fino al 300 la dieta quaresimale escludeva anche latticini e uova poi questi invece furono ammessi anche in quaresi ma con dispense particolari ecco questo tipo di regole che hanno segnato l'attività della cucina per molti secoli in tempi più vicini a noi sono praticamente scomparse dagli usi quotidiani ma ogni ricettario antico medievale rinascimentale seicentesco settecentesco usa questa suddivisione dei prodotti e delle ricette fra prodotti e ricette di grasso cioè da usare quando non è quaresima e di magro come distinzione fondamentale per la classificazione degli alimenti l'obbligo di alternare lungo tutto il corso dell'anno i cibi cosiddetti di grasso e i cibi cosiddetti di magro un obbligo imposto dalla liturgia cristiana a tutto l'universo europeo a cominciare dal medioevo contribuì in maniera significativa ad amalgamare gli usi alimentari dell'europa carni e pesci olio e lardo dovettero compadere sulla tavola di tutti questo obbligo quindi uniformò gli usi alimentari del vecchio continente e inoltre contribuì sul piano gastronomico ma anche sul piano mentale culturale a separare in maniera piuttosto netta quei prodotti nelle pratiche di cucina e nell'immaginario carne e pesce normalmente si escludero nelle preparazioni delle vivande come nella composizione dei menù in tutti i ricettari antichi troviamo o menù di carne o menù di pesce ovviamente abbinare il pesce alla carne in un giorno di grasso non era affatto proibito ma questo genere di contaminazione che oggi è abbastanza consueto sulle nostre tavole per lungo tempo sono strana se non altro perché il clima complessivo il clima culturale voglio dire conferiva a questi due generi di alimento una carica simbolica opposta opponendo la carne come segno del potere come segno del prestigio sociale come segno del carnevale al pesce come segno invece della rinuncia della penitenza del cibo di quaresima e quindi rendendo abbastanza difficile uno sposalizio di questi due sapori di questi due prodotti all'interno dello stesso menù o all'interno della stessa tavola è questo il motivo per cui nei ricettari dell'europa medievale moderna l'alternanza grasso magro è quella che dà il tono a tutto da il tono a tutto anche in senso positivo perché saper valorizzare il pesce quando non si può mangiare carne reinventare le ricette con prodotti sostitutivi un po come si faceva anche nei monasteri per necessità diventa un'abilità tipica del cuoco attento al calendario liturgico in tutto questo gli aspetti penitenziali in senso proprio tendono nel corso del tempo a diventare secondari rimangono per così dire solo il quadro obbligato lo schema di riferimento per scelte gastronomiche che in realtà sono dettate in primo luogo dal gusto l'immagine quaresimale del pesce dura a lungo ma anziché produrre cucine di ripiego in realtà è occasione di straordinarie invenzioni e nell'età moderna e contemporanea quando si afferma un nuovo gusto per i sapori delicati di pesci e verdure i ricettari pur continuando a trattare separatamente i cibi di magro dai cibi di grasso ormai lo fanno soprattutto per sottolineare la squisita bontà e le molteplici potenzialità gastronomiche dei cibi di magro. Antonio Lattini napoletano autore di un importante trattato di cucina pubblicato alla fine del seicento 1694 a proposito del pesce scrive che cito è il cibo più gustoso e delizioso che la natura abbia prodotto e l'alimento più grato che l'acqua possa suggerire per soddisfare la varietà e golosità dei nostri appetiti. È scomparsa in questa definizione ogni accezione penitenziale del consumo di pesce che in seconda battuta Lattini aggiunge precisando che Santa Chiesa destinò i pesci come cibo di quaresima ma ormai questo è passato in secondo piano. In realtà tutta la letteratura gastronomica dedicata ai cibi di magro in età moderna ormai è un'esplosione di piacere gastronomico. Nello stesso XVII secolo c'è un'opera scritta a Roma nel 1636 da Paolo Zacchia intitolata Vitto Quaresimale dove si trovano osservazioni su tutti i cibi che si possono servire a tavola per rispettare questo obbligo del cibo di magro ed è un repertorio amplissimo di sapori, di prodotti, di ricette che parte dai dolcetti che allora cominciano anziché terminare il pranzo, che va alle insalate, che va ai salumi ovviamente i salumi di pesce cioè le alici, caviale, la bottarga e poi va alle minestre e poi va ai legumi e poi ovviamente ai pesci e un lungo capitolo è dedicato alle minestre di pasta cioè vermicelli, maccheroni, lasagne, fettucce, tagliolini, agnolini, gnocchi e mille altre guise scrive il nostro Zacchia. Tutto un insieme di varietà di prodotti, le paste, che hanno avuto larghissimo successo nella gastronomia italiana contemporanea e in buona parte questo successo è dovuto anche alla loro inclusione a pieno titolo all'interno dei ricettari di magro dei tempi di Quaresima.